Musica Benvenuti su TR24 Sport È ancora diviso fra la delusione per la vittoria sfuggita di mano contro l'Ascoli e l'emozione di esibirsi all'Olimpico in Coppa Italia il Cesena che domani partirà alla volta di Roma Sentiamo allora le impressioni di Renzetti e Perticone Ciò che ho vissuto io, la netta sensazione di essermi riuscito a fermare prima e di aver fatto questo gesto Così all'indietro per non urtare l'avversario Eravamo al forse quarto, quinto minuto di recupero Su una partita dove non mi sembra che siano entrati le barelle, l'ambulanza, invasioni di campo, cinque minuti di recupero Una partita del genere sono già abbastanza sintomatici della conduzione di gara Ripeto, per chi come me non è la prima partita È difficile parlare di una conduzione di gara così Perché mi dovrei porre delle domande che non voglio pormi Il gol, il primo a Cesena Sinceramente sono contentissimo L'avrei barattato con una vittoria Però adesso me lo riguarderò Ne faccio talmente pochi che me lo godo un pochettino Sappiamo di aver fatto una bella partita Che probabilmente, quasi sicuramente, anzi meritavamo i tre punti Forse c'è stato tolto qualcosa Però insomma dobbiamo essere consapevili della partita fatta Adesso andiamo a Roma Prima di Carpi c'è un'altra partita Quindi pensiamo una volta senza farci abbattere Festeggio invece il Ravenna reduce dall'ennesimo risultato positivo Il 2-1 rifilato al Mezzolara Ne ha parlato anche Daniele Forte Match winner della sfida del Benelli Grazie alla trasformazione dal dischetto In servizio Daniele Forte, uno dei protagonisti di questa partita Finora hai segnato una doppietta, una tripletta Oggi un solo gol, ma che gol pesantissimo Esatto E' uno che vale tanto, vale come due o tre Perché è stato quello decisivo alla fine Sono contento così Ovviamente ci vuole freddezze in quei casi Quando si tira un rigore a prescindere Però stavolta avevi forse la consapevolezza Che quel rigore valeva un po' di più degli altri Sì, era un rigore importantissimo Soprattutto perché eravamo in rimonta Il pubblico era caldo Quindi dovevamo vincere la partita E' andata bene 12 risultati utili di file Terza vittoria consecutiva Che in Serie D in quest'anno e mezzo Non era ancora successo Classifica che si è ancora accorciata in vetta Sesto posto lontano Direi tutto molto bene A parte un po' di sofferenza Forse soprattutto nel primo tempo Sì, la classifica ci piace Ci piace star lassù Proveremo fino in fondo A continuare a non perdere A vincere più partite possibili Poi vedremo Dove arriveremo Avete dato l'impressione comunque Di credere sempre nella possibilità Di recuperare questa partita Anche quando effettivamente Sembrava molto complicato Riuscire a trovare le chiavi Per scardinare la difesa del Mezzonara Sì, perché loro Giocavano tutti arroccati dietro Già da primo tempo Hanno trovato Il loro rigore Le unicazioni su contropiedi eclatanti E il secondo tempo Li abbiamo schiacciati Nella loro metà campo E la pressione ha portato risultati Seconda giornata di test Per la MotoGP a Sepanga In Malesia Condizioni difficili A causa del meteo Che ieri ha costretto i piloti A terminare Con largo anticipo la sessione Con la pista ancora bagnata Nella notte italiana A timbrare il miglior tempo È stato Iannone Fermando il cronometro A 1,59452 Con la sua Suzuki Subito dietro Vignales e Bautista Quarto si è classificato Valentino Rossi Settimo Andrea Dovizioso Ieri il Fornipopolese Con la sua Ducati Ufficiale Si era fermato In seconda piazza Domani si chiuderanno I primi test ufficiali Ma occupiamoci anche di basket Troppo forte La capolista Orzinuovi Per la Re Chico Faenza Che nulla ha potuto Di fronte allo strapotere Dei Bresciani Nel match valevole Per la diciottesima giornata Del campionato di Serie B Girone B Vediamo il commento Alla partita di coach Ragazzi Loro sono i primi della classe Alle prime rotazioni Abbiamo perso un po' di energia Ma soprattutto l'intensità E loro hanno fatto buonissimi percentuali Noi dopo ci siamo un po' avviliti Loro erano sull'onda D'entusiasmo E hanno fatto canastro Dopo però Siamo stati bravi a recuperare Oggi era difficile La mancanza di attori L'ha complicata Però Dovevamo guardare anche Il lato positivo Che fino alla fine Siamo stati lì E ricriminiamo su qualcosa Soprattutto dal punto di vista arbitrare Su una palla In un momento Che noi stavamo rientrando Molto importante Al quarto tempo Abbiamo iniziato Colpiglio giusto Come il primo tempo La gente aveva energia Aveva volontà Avevamo il desiderio Di rapire la partita E c'eravamo riusciti Poi con la palla lì A metà campo Che c'era un fallo Che gli ha aperto Cinque punti consecutivi Dopo un po' Ha riacchiuso la partita Però se di lì Riusciamo a fare un'azione E portarci a sette punti La partita diventava Veramente bella E si è affidato Al proprio fortino Il Romagna RFC Per tornare a muovere La classifica Lo stadio del rugby Di Cesena Si è confermato Inespognabile Anche per Parma Battuto dai galletti Col punteggio Di 27 a 17 Giallorossi Apparsi determinati A fare bottino pieno Sin dalle prime battute Di gioco In un match Di grande intensità A parità di mete Tre per parte Sono i calci A premiare I padroni di casa Che riscattano Così il risultato Dell'andata Sono 38 Adesso i punti In classifica Del Romagna Che sale In sesta posizione A meno tre Dal Reno Bologna Che deve però Recuperare un match Col Cus Di Perugia Ma è arrivato adesso Il momento Di occuparci Dei titoli Riportati Sui quotidiani In edicola Già da questa mattina Stiamo sul Corriere Di Romagna Si parla Del Cesena Chiude il mercato Sono dolori Dolori appunto Per i bianconeri In difesa Quasi tutti i big Hanno detto no Restano in ballo Coppolaro Dell'Orco E Romagna Oggi i baby Laghi E giovane Saranno ceduti All'Atalanta Per Cascione Possibilità Di stagione Finita Dal Corriere All'arresto Del Carlino In questo caso I guai Sono quelli Del Milan Buonaventura Forse stagione Finita Gagliani Rimedia Cono Campos Momento nero Per il Milan E poi Occupiamoci anche Dell'Inter Scudetto Se vinciamo Domenica Chissà Questa L'affermazione Di Massimo Moratti Entusiasta Verso Appunto Juve Inter Ora nulla È impossibile Neanche Prendere Messi A Torino Sarà Decisiva Zang È la vera Svolta Pioli L'uomo giusto Stasera Intanto Coppa Italia Contro La Lazio Per la semifinale Chiudiamo Con il tennis Il caso Rifiuta L'Azzurro Squalifica Di nove mesi Per Camilla Giorgi Ma lo stop Lo stop Di fatto Non conterà Nulla Vale solo Per l'Italia E lei gioca Quasi sempre All'estero Ma andiamo A sentire Anche L'opinione Di Luciano Poggi Si sapeva Che la situazione Del Cesena Era difficile Da sistemare Per quel che riguarda La campagna Acquisti e vendite È partito di Urici È arrivato Cocco Il Cesena Non riesce a vendere Con ogni probabilità Sarà costretto A fare Un'operazione Con l'Atalanta Dando i pezzi migliori Alla squadra Bergamasca In cambio Di soldi Per riuscire A sistemare Almeno per il momento Il bilancio Giungono buone notizie Per quel che riguarda La parte amministrativa Se il Cesena Si salverà sul campo Non dovrebbero esserci problemi Per l'iscrizione Al prossimo campionato Di Serie B Ma che langue Naturalmente È la situazione Sul terreno di gioco Perché? Perché C'è molta difficoltà A riuscire Ad imbastire Una campagna Che possa portare A Cesena Quei giocatori Che servono A Camplone Soprattutto oggi Che c'è davvero Un grande bisogno Nel reparto difensivo E c'è un grande bisogno Anche a centrocampo Almeno Un centrocampista Di peso Che sappia Inserirsi Per andare in area Quando la palla Appunto Arriva in area Si sa che Camplone Vuole un gioco d'attacco Con almeno Quattro giocatori In area È arrivato Il momento dunque Di fermarsi E per costruire Per il futuro Ma per ora Ci sono ancora Poche ore A disposizione Per rimediare Il presente Si chiude così Anche questa edizione Vi ricordo Che per rivedere I programmi sportivi Della nostra emittente Potete consultare Il canale 192 Di Teleromagna Sport O comunque Visitare Il portale TR24.it Per avere Tutti gli ultimi Aggiornamenti Grazie Per averci seguito Arrivederci Per averci seguito Per averci seguito Per averci seguito